Popolo giallorosso buon pomeriggio benvenuti in questo nuovo video allora che dire che dire appena terminata la conferenza stampa di Murigno è stata una conferenza stampa molto molto indicativa di quello che lui vuole fare qui a Roma mi sono segnato tutte le cose che ha detto ne parliamo insieme perché veramente c'è tanta carne al fuoco allora la prima cosa che lui ha chiarito è che qui bisogna cambiare la mentalità la mentalità del lavoro la mentalità all'interno di Tricoria la mentalità dell'intero club cioè dal giardiniere al giocatore di classe quindi bisogna lavorare sulla testa bisogna lavorare sulla professionalità bisogna lavorare veramente veramente sul creare una squadra è un club è un club professionale all'ennesima potenza inoltre ha detto che comunque a differenza di quando non c'era lui non uscirà mai niente mai niente da Tricoria quindi scordatevi le notizie che uscivano fino a qualche tempo fa Zego ha mandato a fanculo Fonseca giocatori che non vanno allenarsi il modulo non lo vogliono fare ragazzi tutte queste pagliacciate queste minchiate non usciranno più da Tricoria quello che succederà a Tricoria rimarrà dentro Tricoria ed è già una cosa veramente veramente importante se può diventare un grande club ha ribatito ha ribatito che sarà un progetto sostenibile sostenibile non vuol dire progetto a lunghissimo termine perché sono tre anni soltanto però lui chiaramente ha detto e ha specificato non vogliamo vincere nell'immediato e non pagare gli stipendi l'anno dopo ma far vincere il club e farlo rimanere ai vertici non vincere una volta e basta ma vincere deve essere la normalità per questa squadra quindi ci sarà il mercato si metterà a disposizione una squadra competitiva si lavorerà molto e si cercherà in questi tre anni come ha detto lui di festeggiare ha detto che comunque la cosa più importante sarà la cultura del lavoro e che parlerà con ogni singolo calciatore della Roma per cercare di infondere in loro proprio la cultura del lavoro e la cultura vincente che lui sicuramente può portare alla domanda poi chiaramente i cazzari del web qui sono stati subito sbugiardati perché lui ha dichiarato apertamente che non ha parlato con nessun giocatore quindi non ha parlato con Donna Roma non ha parlato con Sergio Ramos anche se noi tifosi romanisti intelligenti lo sappiamo tanti altri invece sono decoccio e non capiscono che la professionalità è un'altra cosa alla domanda poi gli hanno detto se questa era la sua sfida più importante visto il club che sta per venire ad allenare ha detto assolutamente no perché per lui ogni sfida quella successiva è la più importante questa è la grande mentalità dell'allenatore ragazzi dovunque va lui indipendentemente da chi allena da sempre il massimo e vuole vincere che sia il crotone che sia il Real Madrid che sia la Roma poi chiaramente ha detto che lui è sempre lo stesso il suo DNA non cambia quindi è Giuseppe Murigni è questo non è che lui perché viene a Roma deve cambiare il suo modo di lavorare o il suo modo di fare chiaramente una cosa che mi ha fatto enormemente piacere la domanda se lui aveva parlato con Zeko per farlo rimanere e se la fascia di capitano sarà di Pellegrini o di Zeko o qualsiasi altra situazione di calciatore ha detto io non ti dico niente a te e ma a nessun giornalista perché quello che succede dentro il Vigoria rimane dentro il Vigoria e quello che dico ai miei giocatori rimane nei miei giocatori e non lo dico alla stampa quello che succede e questo mi ha fatto godere in maniera assurda ragazzi perché vuol dire che niente uscirà da Trigoria oggi quest'anno dei prossimi tre anni e che lui avrà sempre un rapporto diretto con i calciatori e cercherà sempre di trovare la soluzione migliore per la Roma perché lui ha detto detto la Roma dei romanisti no la Roma di Giuseppe Murigni la Roma di Roma lui sa benissimo cosa sono i tifosi della Roma cosa si aspettano la cultura del lavoro il cambio di mentalità il dare tutto anche non vincendo perché è quello che ci ha sempre caratterizzato è chiaro che lui vuole vincere e vincerà sicuramente qualcosa in questi tre anni chiaro che ha ribadito che lui vuole fare un progetto deve visionare dentro di Goya tutto quello che succede tutti i calciatori tutto quanto non si potrà ha detto nel calcio può succedere di vincere subito però è chiaro che si punterà a fare degli step anno dopo anno ripeto come ha detto lui perché lui vuole portare la Roma all'elite del calcio e falciare a rimanere non fare un progetto di un anno così di vincere come accade accaduto sempre a Roma di vincere lo scudetto un anno e poi aspettando gli altri 25 ha parlato di Cristante ha parlato di Cristante ed ha avuto delle parole entusiastiche su Cristante sull'uomo sul professionista ma questo non avevamo dubbi per cui ha chiaramente fatto intendere che Cristante farà parte del progetto nuovo perché è un giocatore che si è sempre messo a disposizione della squadra e ha sempre cercato di dare tutto in campo e questi sono i calciatori che lui predilige ha detto anche praticamente che Spinazzola starà fermo quindi che ha Calafiori in panchina che deve crescere tanto e quindi ha chiesto esplicitamente ha pinto un terzino sinistro quindi un terzino sinistro sicuramente arriverà e sostituirà Spinazzola finché non rientrerà ha ribadito che questo è un mercato difficile è un mercato complicato la pandemia i debiti e tutto quanto quello che ne circonda è chiaro che si farà il mercato perché lui richiederà determinati giocatori in funzione del modulo che lui stesso poi in base ai calciatori perché questa è un'altra cosa importante lui ha detto i giocatori si devono divertire in campo e devono dare il massimo con le proprie caratteristiche e trovare il modulo che faccia dare il massimo ai giocatori nelle loro caratteristiche e questo è quello che lui studierà insieme ai giocatori per cercare subito di trovare uno schema che possa fare dare al massimo ai giocatori e questo chiaramente è una cosa importantissima perché è fondamentale che i giocatori in campo siano convinti del progetto ha detto che la prima partita lui la vuole vincere assolutamente e pensare partita per partita ogni partita dopo si deve sempre puntare alla vittoria la prima sarà in conference league e quindi subito lui ha detto la prima cosa voglio vincere la prima partita poi ha parlato del suo recente passato dove gli è stata fatta la domanda praticamente dove negli ultimi tre club inglesi non ha fatto non è sembrato il solito special one non ha dato tanto come erano abituati ma lui ha ribadito che col Chelsea ha vinto lo scudetto col Manchester United ha vinto tre trofei e col Tottenham ha detto che praticamente l'ha preso dodicesimo il primo anno e l'ha fatto arrivare sesto a fine campionato e che nel secondo pure essendo stato sonerato comunque aveva conquistato una finale per un torneo quindi lui ha detto io non sono cambiato siete voi che dite che sono cambiato ma io dovunque sono andato ho comunque vinto e su questo di certo non gli si può dare torto e poi è chiaro ragazzi che lui cultura del lavoro all'ennesima potenza ribadisco che lui vuole costruire un club un club che possa rimanere lì in alto e vincere fa tre anni gli hanno detto io spero fa tre anni di festeggiare gli hanno detto che cosa qualsiasi cosa perché vincere ragazzi aiuta a vincere è chiaro che ha parlato anche di Zaniolo dicendo che è un giocatore fondamentale che gli troverà sicuramente il modulo più adatto a lui e poi all'ultima domanda scherzosamente gli hanno detto se vince nel 2022 sappia che comunque tutti i figli dei romanisti che nasceranno si chiameranno Giuseppe lui ha dibattito si chiameranno Giuseppe ragazzi un grandissimo allenatore un grandissimo uomo non vedeva l'ora di finire la conferenza stampa per andare a fare il primo allenamento i tifosi lo hanno conquistato si sente in grandissimo debito già con i tifosi perché come ha detto lui non ha dimostrato niente e vuole vuole regalare tante gioie ai tifosi vuole costruire una Roma forte e io ragazzi sono sono contento perché spesso a Roma questi progetti a lungo termine non sono mai neanche nati non si può vincere subito questo lo sapevamo ma sappiamo benissimo che Mourinho farà di tutto per vincere per portare la Roma in alto e che la società gli metterà a disposizione la squadra per farlo per cui siamo positivi siamo contenti inizia veramente da oggi l'era Mourinho e spero che ci possiamo levare tante soddisfazioni ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale tanti like commentate e ci sentiamo presto grazie a tutti